Oggi, 24 marzo, la Chiesa dedica la giornata al digiuno e la preghiera in memoria dei missionari martiri. Stasera in diretta su MTV alle 20.30, andrà in onda una veglia promossa dall'Ufficio Missionario della Diocesi di Macerata, che nonostante la pandemia, continua operoso nel servizio. La cosa che stiamo vivendo è quella della scuola di Cesare Missionaria, e sperando che quest'estate poi qualcosa si possa aprire, vorremmo, ci stiamo attivando per proporre delle esperienze sul nostro territorio, di prossimità, di vicinanza, a realtà che pensiamo che magari vediamo in televisione o pensiamo sempre lontano, invece stanno anche qua da noi. In un specifico stiamo lavorando per contatto, contattando un'associazione che è On The Road, che lavora ed è presente all'Otel House, come anche con la comunità Lapa Giovanni di Tresco, che ha un'equipe, chiamano l'equipe di strada, per la prossimità verso le ragazze schializzate attraverso la tratta della Costituzione, e sarà possibile vivere, preparandosi un po', cercando anche che non sia andare a vedere una mostra, ma veramente impegnarsi per un tempo ad essere prossimo, ad essere vicini a questi tipi di periferie, che ci interrogano come persone, come cittadini, ma anche come cristiani. C'è il desiderio di partire e non c'è la possibilità, questo però appunto non ci ferma, e quindi stiamo in questo momento lavorando ad una rubrica, anche noi abbiamo scelto di riaffacciarci un po' al mondo online, dando vivacità alla nostra pagina Facebook, la pagina di Omega, stiamo lavorando ad una rubrica che nasce in particolare per raccontare un progetto che sta andando avanti da anni, che ha la collaborazione anche della Curia e della Caritas, che è una biblioteca nella Savana, la biblioteca che sarà poi dedicata in modo specifico a Don Peppe, un grande nostro sostenitore anche nella sua dimensione veramente missionaria locale, ma aperta al mondo intero. E quindi dal 6 aprile ci saranno tre appuntamenti serali, dove metteremo in rete alcuni incontri. Allora, noi adesso stiamo facendo un'attività un po' più pratica, nel senso che sempre per una raccolta dei fondi abbiamo messo su un lavoratorio di cioccolata tramite un pasticcere e praticamente siamo una trentacinquina di volontari che quasi tutti i pomeriggi facciamo dei cioccolatini. Questi cioccolatini verranno messi dentro delle tazze in buccia di caffè e polipropilene, quindi plastica, bioplastica, verranno riempiti con questi cioccolatini. In questo periodo ci stiamo anche rendendo conto che non dobbiamo lasciare la nostra intenzione missionaria, cioè comunque un'attenzione alla missione ce la dobbiamo avere sempre. Quindi noi comunque ci incontriamo via Skype o via messaggio per comunque sentirci e capire quali saranno i nostri passi. Anche noi attendiamo, come tanti altri gruppi, di poter tornare giù in Africa, quindi per adesso lavoriamo così. Grazie. 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 Grazie.